Il futuro in mano all'arte. E' questo il titolo del progetto presentato nell'auditorium dell'Istituto Superiore Torrente di Casoria che ha l'obiettivo di arginare il fenomeno della dispersione scolastica e aumentare l'occupabilità per gli allievi attraverso un percorso che passa anche per l'insegnamento dei valori della legalità e del lavoro manuale. Il progetto realizzato in collaborazione con l'Antica Pizzeria da Michele parte come corso di formazione per gli alunni delle classi quarte dell'Istituto Torrente. Anna Maria Orso, dirigente scolastico dell'Istituto Torrente, Sergio Condurro, amministratore dell'Antica Pizzeria da Michele. Un corso di formazione che potesse dar loro la possibilità di imparare l'arte di uno dei mestieri artigianali più richiesti oggi sul mercato del lavoro. I ragazzi più meritevoli che mostreranno particolari attitudini avranno poi la possibilità di accedere a un'Accademia di formazione che l'Antica Pizzeria da Michele ha messo loro a disposizione. Partendo dal mondo pizza vogliamo offrire ai ragazzi la possibilità di poter lavorare. Oggi c'è una forte richiesta nel mondo pizza di pizzaioli. Il pizzaiolo che non è più un mestiere di secondo livello o di terzo livello, ma oggi il pizzaiolo è uno star, il pizzaiolo oggi è un artista. Gli allievi scopriranno i segreti dell'arte di uno dei mestieri artigianali attualmente più richiesti dal mercato del lavoro. Un secondo momento del progetto prevede poi l'assegnazione di borse di studio in favore degli studenti più meritevoli che avranno la possibilità di seguire gratuitamente il corso professionalizzante di pizzaiolo che l'Antica Pizzeria da Michele e Indoworld in collaborazione con l'Associazione Logos Formazione impartisce ad Aversa. Alla presentazione sono intervenuti anche Lucia Fortini, assessore all'istruzione della regione Campania ed Ettore Acerra, direttore generale dell'USR Campania. Lo studio può essere anche finalizzato non solo deve costruire coscienza critica, non c'è dubbio, ma deve dare anche il senso che studiando ci si può costruire il proprio futuro. Credo che questa sia la cosa più importante. L'istruzione professionale sia sottodimensionata in Campania, nel senso che pensiamo che questo sia uno dei principali strumenti per lo sviluppo economico e naturalmente per il futuro dei ragazzi.